Cammina per il cuore, una giornata dedicata alle donne domenica 9 giugno? Sì, domenica 9 giugno facciamo questa camminata per il cuore nell'ambito di un progetto nazionale, si parla di cuore. Questa camminata è importante perché è uno dei primi momenti della prevenzione primaria per la salute del cuore. Quindi è importante partecipare a questa camminata perché intanto daremo delle informazioni a tutta la popolazione, consegneremo una brochure con dati anche allarmanti per la morte per malattie cardiovascolari nella donna ma anche per saper prevenire quello che è modificabile oltre ai fattori non modificabili. In questa passeggiata ci sarà anche la possibilità di avere una prenotazione per delle card in collaborazione con la fondazione per il cuore. Queste card serviranno poi come una banca dati per la donna perché un dispositivo che si collegherà all'elettrocardiogramma potrà essere poi portato nella card come referto. Quindi è importante partecipare a questa passeggiata perché non solo è l'input da dare alla popolazione perché l'attività fisica è uno dei momenti più importanti per le malattie cardiovascolari come prevenzione ma soprattutto perché si passa anche allo stato diciamo sociale, lo stare insieme, evitare la depressione, l'ansia e pensare soprattutto che la camminata del cuore fa parte di un progetto di grande respiro che portiamo avanti come Soroptimist ormai da un anno. Cammina per il cuore è un momento dedicato alla donna ma non solo, le donne possono partecipare. Ovviamente, intanto colgo l'occasione per ringraziare la presidente dell'associazione Soroptimist. La commissione è vicina all'associazione pertanto è la prima volta che un'associazione interagisce con una istituzione e questo è un ottimo risultato. Il mio messaggio immediato perché nello specifico è entrata la dottoressa Sulla il mio messaggio è quello di dire alle donne venite, vi aspettiamo, cammineremo insieme col cuore e per il cuore perché la prevenzione non è mai abbastanza.